Il regista Rivano Franco Delliguanti e Ludovico Maile hanno realizzato un documentario dedicato alla grande diva degli anni 50 e 60 Dorian Gray. Dai teatri del dopoguerra al successo con la compagnia di rivista del poliedrico Macario, Maria Luisa Mangini approda al cinema con Fellini e Antonioni, a fianco di Walter Chiari, Totò e Alberto Sordi, fino a vincere un nastro d'argento per Mogli Pericolose. Tra testimonianze di colleghi, ammiratori e immagini d'epoca, il documentario di Franco Delliguanti e Ludovico Maile va alla scoperta di una vita misteriosa. Sicuramente è il primo maggio ufficiale che le viene dedicato dal giorno della sua tragica scomparsa avvenuta nell'inverno del 2011. Chiamatemi Divina è il titolo del documentario che vuole riportare alla luce la figura di Dorian Gray, diva del cinema italiano degli anni 50 e 60, che scelse di vivere in Trentino nel momento in cui, ancora giovanissima, decise di ritirarsi dalle scene. Il documentario sarà presentato tra una quindicina di giorni in Prima Mondiale a Bologna, all'interno della programmazione di Biogra Film Festival, nella sezione Storie Italiane. È un nuovo prestigioso riconoscimento per il Centro Culturale La Firma di Riva del Garda che si è fatto promotore di questo omaggio ad una pagina di storia del cinema italiano per molti dimenticata.